Ciao a tutti! Oggi facciamo il light ultra, il nostro sostitutivo del pasto con una ricetta sfiziosa. Prendiamo 300 ml di latte, 30 g di fiochi di avena, una banana matura, un quadrato di cioccolato fondente, un misurino di light ultra o alla vaniglia o al cioccolato come preferite. Mettete tutto nel vostro frullatore, riscaldate il frullato e vedete che bontà! Adesso vi faccio vedere il procedimento. Ho messo tutti gli ingredienti nel bimbi, ho frullato e adesso siccome mi piace caldo lo sto riscaldando così si scioglie il cioccolato e tra breve vi faccio vedere che bontà! Ed eccolo qui il mio frullato appena uscito dal bimbi, vedete qua? È molto denso, buonissimo! E questo è già una cena completa di tutto, fibre, proteine e carboidrati, perché abbiamo messo i carboidrati dell'avena, le fibre della banana, più quelle contenute nel light ultra, quindi una cena o un pranzo ben equilibrato. Ciao alla prossima da Laura Leotta, manager forever living. Ciao ciao!